Benvenuti a tutti, siamo qui con il professor Paolo Flores d'Arcais che gentilmente ha accettato di essere nostro ospite per una delle conferenze inaugurali di Ardeit. Paolo Flores d'Arcais non ha bisogno di presentazioni ma lo introduciamo in ogni caso, filosofo e soprattutto da 35 anni direttore della rivista Micromega. Dunque il nostro festival di arte contemporanea organizzato da De Blanc giunge con questa alla sua undicesima edizione ma abbiamo voluto creare un ideale ponte temporale con l'eduizione 2020 perché per i motivi che tutti sappiamo purtroppo l'anno scorso abbiamo faticosamente dovuto convertire in ultimo tutto il palinsesto in formato digitale. In più sentiamo come molti che questi due anni sono attraversati da una sorta di sentire comune. Venato certamente da incertezza ma anche da una certa aspettativa verso il futuro. La tematica di Ardeit 2020 era il dono mentre quella del 2021 nel tempo sospeso. Quando ho invitato Paolo Flores d'Arcais a partecipare ad Ardeit appresa la tematica del tempo sospeso mi ha proposto di basarci sul suo saggio questioni di vita e di morte. Il riferimento al dibattito sull'eutanasia che ha interessato soprattutto ultimamente per via del referendum il nostro paese. Nella convinzione che sia importante per l'arte e gli artisti recuperare il loro ruolo all'interno del dibattito pubblico emancipandosi dalle tematiche autoreferenziali che troppo spesso forse interessano il sistema dell'arte ma anche perché l'evento principale del nostro festival 2020 è stato la mostra il dono sulla vita e la morte. Ho ritenuto la tematica fosse perfetta per questo nostro incontro pur nella consapevolezza che sarebbe stata una bella sfida sotto diversi profili costruire questa intervista e a oggi posso confermare che è stato complicato trovare un connubio che mi ci permettesse di affrontare l'argomento guardandolo e indagandolo però dalla prospettiva dell'arte. Nell'arte contemporanea esistono infatti tantissimi artisti che hanno affrontato di petto seppur con approcci estremamente differenti il tema della morte. Bill Viola, Felix Gonzalez-Torres, Christian Boltanski, Andre Serrano ma anche Roberto Cuoghi ma sembra in generale che il panorama del contemporaneo sia distante dalla morte. Anche per via aggiungo di questa aurea un po' tra l'assettico e il patinato che ha assunto il sistema dell'arte. Quando invece tutta la grande arte cristiana classica era imperniata attorno a questo. Si pensi alla stessa idea dell'uomo crocefisso, i martieri dei santi, spesso atroci, rappresentazioni di ogni genere tra sacrifici, esecuzioni e stragi. C'è un bellissimo passaggio introduttivo che voglio citare tratto da Morte e Ressurrezione, un volume dei Dizionari dell'Arte dove l'autore Erico De Pascale scrive, cito testualmente, sfogliando un qualunque manuale di storia dell'arte. Visitando un museo, passeggiando lungo le navate di una chiesa, si resta stupiti dal constatare l'eccezionale numero di immagini rafficuranti episodi che direttamente o indirettamente evocano la morte. La morte non è infatti un incidente ma un momento della vita inevitabile e possiamo dire anche solenne, che però ad un certo punto, che nel Novecento possiamo individuare tra le due guerre, abbiamo socialmente provato a stornare dalla prospettiva e che il 2020 ha invece, attraverso la pandemia, potentemente rimesso su tutti i riflettori. Tant'è che è emerso questo linguaggio bellico perché nel sentire comune anche era quello del conflitto. Ecco dunque, forse dopo questo troppo lungo preambolo, arriviamo a noi. Allora, dottor D'Arcais, come sa il nostro è un festival di arte contemporanea per cui io non posso esimermi da una domanda iniziale che è questa. Lei segue l'arte contemporanea, si interessa di arte contemporanea? Io mi interesserei molto di arte contemporanea, me ne sono sempre occupato tantissimo. Fin da quando avevo 14 anni facevo il giro a Roma di tutte le gallerie d'arte che stavano fra Piazza di Spagna, Via del Babuino, eccetera. Sono convinto che da alcuni decenni di arte non ci sia più quasi traccia, ci sono alcune eccezioni. C'è una sorta di appendice del sistema finanziario. Ritengo che la maggior parte delle cose che passano come arte, con l'arte non abbiano nulla a che fare. Su questo ho anche scritto una volta un breve testo. Io penso che gli artisti, fra virgolette, fra molte virgolette, che oggi vendono a cifre le più gigantesche, siano delle truffe. Io non riesco a vedere nulla di artistico in Jeff Koons, per dire quello oggi l'ultimo dei più pagati. Ma comunque questo sarebbe un discorso che ci porta molto lontano. Allora, arriviamo quindi più vicini a noi. Nel capitolo primo del suo saggio, Questione di vita e di morte, intitolato il capitolo Logicamente, lei scrive La morte è l'unica certezza della vita, nella totale incertezza del quando e del come. La morte ci fa paura e cerchiamo di rimuoverla dall'orizzonte della nostra esistenza. Dovremmo invece tenerla sempre presente, perché nell'esistenza è ineludibile. Le lascio commentare il passaggio. Mi sembra ovvio, perché se noi abbiamo costante consapevolezza della morte che ci aspetta, faremo di tutto per vivere il più intensamente possibile la vita. Invece rimuovere la morte, cercare di nascondersi il fatto che prima o poi ci capiterà, ci porta molto spesso a vivere superficialmente la vita, a non godercela appieno. Il mio librettino si chiama appunto Questione di vita e di morte, perché le due cose sono assolutamente connesse. Si parla del diritto di morire, del diritto di abbreviare un'esistenza quando, perché questo è il sicilio assistito, l'eutanasia, abbreviare la propria vita quando è diventata una tortura insopportabile. Capita in molti casi di fine vita. Ma tutto ciò non è lugubre, perché è invece la ricerca di poter vivere quello che si ha della vita con la massima pianezza possibile, da tutti i punti di vista. Vorrei quasi dire che essere consapevoli della morte è, ed esserne sempre consapevoli, non nasconderselo mai, è la condizione per vivere intensamente una vita direi epicurea, in cui il piacere, la ricerca del piacere in tutti i suoi aspetti, della gioia, della pienezza, è il filo conduttore. Brutalizzo quanto lei ben scrive. Un tempo c'era il gusto ed il piacere nell'organizzare la tortura e di far sì che il pubblico assistesse, donne, uomini, bambini, ansiosi dello spettacolo, proprio perché di una sorta di spettacolo si doveva trattare, tant'è che si faceva in modo che l'agonia del condannato durasse quanto più possibile per non scontentare il pubblico. Oggi invece, negli stati dove ancora esiste la pena di morte, anche chi ha commesso i reati più crudeli e deferati ha il diritto di morire con dignità e senza dolore. Ho ritrovato una, secondo me, bellissima dichiarazione del poeta Paul Morand, che credo rappresenti quello che si augurano la maggior parte delle persone, almeno parlo per me e mi augurerei io. Risponde infatti così in una delle sue ultime interviste ad una domanda sulla morte. Posso solo esprimere un desiderio che accada armoniosamente e che io lasci la vita come si lasciano tutte le cose cui si è tenuto molto. Io ho dedicato un intero capitolo alla pena di morte così come era concepita fino a non molto tempo fa. E ho raccontato, ho preso anche alcuni brani da testi letterari, ora se non ricordo male, da una delle cronache italiane di Stendhal, da una pagina della Histoire des Mavis di Casanova, in cui si raccontano, si fa vedere come la condanna, l'esecuzione fosse veramente una grande festa popolare e la gente godeva di vedere soffrire il condannato a morte. Ed erano pene orripilanti, orripilanti che duravano ore e mi sembra che racconto anche che quando fu introdotta in Francia la ghigliottina durante la rivoluzione francese per rendere la morte appunto il più possibile indolore, la prima esecuzione che fu fatta, che non fu per i ghigliottinati della rivoluzione francese, ma per un reato comune di omicidio, poiché l'esecuzione durò un attimo, ci fu una specie di grande sospiro di delusione da parte della folla perché non c'era più spettacolo. Ora, io ho dedicato questo capitolo al fatto che fino a un recentissimo ieri era così, per dire che oggi è iniziata con la rivoluzione americana il fatto che la pena di morte non doveva diventare uno strumento di sofferenza. Si voleva togliere dalla vita comune una persona che si riteneva irrecuperabile per i suoi delitti, ma non ci doveva essere l'aggiunta di sofferenze inutili. Per far notare come invece oggi per delle persone che non hanno commesso alcun delitto, un malato terminale non ha commesso alcun delitto, invece noi pretendiamo, noi, la Chiesa Cattolica in primo luogo, le altre religioni non tutte ma spesso e anche qualche laico ahimè, invece per l'innocente che ha solo, che non ha colpa alla sventura di essere stato colpito per caso dalla malattia inguaribile terminale che lo fa soffrire, è costretto a soffrire. Pretendiamo che la tortura continui perché che cosa chiede la persona che chiede l'eutanasia o il suicidio assistito? Che la sua tortura venga meno. Ecco, quello che noi abbiamo concesso da un paio di secoli ai più efferati assassini non vogliamo concederlo a persone che non hanno nessuna colpa e che anzi sono stati colpiti da una sventura senza motivo, dal caso. Senta, ho provato a puntellare questa nostra conversazione con delle opere e delle immagini che sono emerse durante lo studio preparatorio. Questa è una dichiarazione di Andy Warhol. Ad un certo punto ho capito che tutto quello che faccio ha qualcosa a che fare con la morte. Nell'immaginario collettivo dubito che si associ facilmente la ricerca di Warhol alla morte. Parlo dell'immaginario collettivo e non di chi conosce il lavoro di Warhol. Si pensa più facilmente alla latina di Campbell per intenderci. Eppure esiste una sua grande serie intitolata Death and Disaster che comprende la serie delle sedi elettriche ma anche una serie di immagini di incidenti e anche di suicidi. Il motivo della passione di Warhol per il tema della morte non era solo la presenza costante nella vita di tutti i giorni, ma era anche una sorta di tentativo di osservare come possiamo prendere le distanze dal suo impatto nella nostra emotività. Dichiara inoltre infatti, quando vedi immagini terribili ancora e ancora cessano di avere effetto su di te. E una riflessione del genere l'ha fatta poi successivamente anche Slavoj Zizek riferita alle immagini dell'11 settembre. Sostenendo che in qualche modo quelle immagini disastrose noi le avessimo già viste nelle pluralità di scene di film catastrofici. Le domando, secondo lei l'abitudine a vedere la morte come spettatori, intendo quindi separati da quello che contempliamo, a cosa ha portato? Intanto io trovo Warhol pessimo, è con Warhol che direi incomincia la non arte e la finanza tossica. Ma detto questo, guardi che queste riflessioni furono fatte anche molto prima, per esempio il primo bombardamento americano sul Vietnam occupava a piene colonne tutte le prime pagine dei giornali e apriva tutti i telegiornali. Il trentesimo bombardamento americano sul Vietnam che naturalmente non è che ha fatto meno morti, anzi ne faceva di più perché c'era la famosa escalation, era, se andava bene, a pagina 9 in basso a sinistra un trafiletto di poche righe. La suefazione è un fenomeno psicologico notissimo e per cui in più le grandi stragi ci colpiscono meno che il caso singolo drammatico. Il caso singolo drammatico ci prende pienamente dal punto di vista emotivo. Nei giorni scorsi è stato ricordato i 50 anni dalla morte di un bambino in un caso che si tentò di salvare in tutti i modi e non ci si riuscì. E ci fu una diretta che credo durò un paio di giorni con il presidente della Repubblica Pertini che andò lì. E' proprio ieri l'altro credo che sia morto uno dei soccorritori, l'unico che era riuscito a toccare questo bambino. Ora, quella è la morte drammatica di una persona. Ma noi abbiamo in continuazione stragi di centinaia, di migliaia di persone che non ci fanno nessun effetto perché una persona è una persona, tante persone finiscono per essere un numero. E naturalmente su questo contano anche i guerrafondai che si danno alle stragi, perché sanno che poi la reazione ha sempre meno fondamento emotivo e quindi alla fine si spegne. Ecco, questa è la condizione della nostra psiche e naturalmente dovremmo sempre esserne consapevoli per non assuefarci all'orrore. E io credo che il malato terminale che ormai non vive più, gli altri, i cardinali chiamano la sua vita, lui la sua vita la chiama tortura, ha diritto a porre fine a questa tortura. Chi cerca di impedirglielo, e la legge italiana oggi lo impedisce, anzi sanziona pesantemente fino a 12 anni chi lo aiutasse a morire, non ha una cultura della vita, ha una cultura della tortura. Sì, tant'è che la parte del suo saggio, questione di vita e di morte, che lei dedica al racconto di alcune esperienze di persone che hanno chiesto l'eutanasia, hanno combattuto per ottenere l'eutanasia, devo dire che è stata per me veramente molto toccante e in alcuni momenti ho fatto anche difficoltà ad andare avanti con la lettura, perché è vero che quando si tratta del singolo c'è questa totale immedesimazione, che invece viene a mancare, si può portare anche un esempio strettamente contemporaneo, il bollettino del covid, per quanti centinaia di morti, ormai uno non lo sente neanche più sostanzialmente, è triste però è così, mentre invece questa immedesimazione torna con il singolo. A proposito del singolo, preparando il nostro incontro ho visto un film bellissimo, Il mare dentro, di Aleandro Aminavar. È tratto dalla storia vera di Ramon San Pedro, costretto a letto per 25 anni, durante i quali ha combattuto, senza vincerla, la battaglia per il suo diritto all'eutanasia. Dico senza vincerla, perché lui alla fine è stato costretto a farsi aiutare da un'amica. Nel film, ad un certo punto, la cognata del titraplegico Ramon, che è colei che materialmente si prendeva cura di lui, nel difendere la posizione di Ramon, dice questa frase che mi ha colpita molto. Lei ha la bocca troppo larga. Mi ha colpita questa frase perché ho l'impressione che sebbene sia sempre corretto, si aprono dei dibattiti e dei confronti, spesso si sia sentito commentare queste battaglie e queste situazioni che comunque sia sono personali e riguardano appunto il singolo che le sta vivendo, in delle maniere tra il volgare e comunque anche l'improprio. Domanda, secondo lei questa fruizione mediatica della vita ha contribuito al dilagare di giudizi facili su questa questione così come su altre? Io nel mio libretto cito come uno dei casi quello su cui è stato costruito quel film e la bocca larga, cioè il dare giudizi sulle sofferenze altrui dicendo che in fondo non sono così intollerabile, è una delle cose più mostruose che ci siano. Se per un malato terminale solo chi sta vivendo la sua sofferenza può decidere se è sopportabile o insopportabile e chi lo costringe a viverla quando la persona che la vive la ritiene insopportabile è un torturatore. Le discussioni mediatiche vengono costruite in un modo assurdo e io spero, siccome ora andremo a un referendum, spero che non ci siano intracci da parte della Corte Costituzionale, sarebbe veramente uno schiaffo a tante cose. Ma se si andrà alla discussione che quindi si svolgerà anche sulla televisione, io spero che venga fatta nel modo corretto e non raccontando falsità tipo con una legge così si ammazzeranno tutti i vecchietti, perché io ho già visto dei manifesti che a un certo punto erano usciti, che avevano questa logica qui, raccontavano delle mostruose falsità. Il diritto all'eutanasia o al suicidio assistito consiste solo nel fatto che una persona consapevole reiteratamente dice che non ce la fa più a considerare la sua una vita, la considera tortura e vuole essere liberato da questa tortura e non è in grado di liberarsi da solo se non aggiungendo orrore alla sofferenza, per esempio buttandosi dal quinto piano di un ospedale. Io ho raccontato tre episodi di persone molto note, perché erano tutte nel mondo del cinema o della letteratura, che sono stati costretti, uno mi sembra l'ultimo fosse Monicelli, sono stati costretti ad aggiungere alla loro sofferenza di tortura della malattia anche l'orrore di una morte che avrebbero preferito avvenisse tranquillamente, serenamente. Non so se c'è altro da dire sull'argomento. Sì, mi ha dato l'assist per la domanda successiva, dove faccio appunto un breve excursus sul suicidio. Allora, l'antica Grecia onorava il suicidio e anche i romani gli hanno dedicato un culto rispettoso. Gli ebrei l'hanno punito come un crimine e il cristianesimo ha seguito la tradizione ebraica. Diceva infatti Sant'Agostino, quando ci si uccide, si uccide un uomo. Nel Medioevo si è inventato addirittura di fare un processo in piena regola al cadavere. Luigi XIV confiscava i beni dei colpevoli di suicidio e Napoleone proclamò che un soldato che si uccide è un soldato che diserta. Da lì in poi si è assistita ad una sorta di ondata romantica e l'uomo è stato riconosciuto come diciamo più padrone del proprio destino, tant'è che il suicidio entra nella grande letteratura. Dolori del giovane Werther di Goethe, le ultime lettere di Jacopo Ortiz o I demoni dove Dostoevsky fa dire ad un personaggio l'uomo non ha fatto altro che inventare Dio per vivere senza uccidersi. E anche Primo Levi dove se questo è un uomo scrive la sicurezza della morte impone un limite ad ogni gioia ma anche ad ogni dolore. Dottor D'Arcais è ovviamente una domanda retorica ma ci spiega che differenza c'è tra il suicidio e il suicidio assistito? C'è la differenza tra il dover aggiungere una sofferenza supplementare alla propria volontà di non soffrire più oppure di poterne fare a meno di questa sofferenza supplementare. I casi che io ho citato di Monicelli e di altri personaggi molto noti significano proprio questo. Quelle persone vivevano la loro condizione di malati terminali come una condizione di tortura. Volevano uscirne, avrebbero voluto uscirne nel modo in cui penso tutti noi vorremmo uscirne se ne vogliamo uscire, cioè col massimo di serenità, senza soffrire, con una flebbo che non ci fa sentire nulla e magari con le persone più care che stanno vicino a noi. Io racconto il caso, ora non mi ricordo se di un paziente australiano definisce che con i suoi più cari amici e familiari brindano insieme con lo champagne negli ultimi istanti della sua vita e lui che aveva avuto una bellissima vita e che non non ne poteva più di vivere attraverso una terribile agonia può concludere nel modo, non dico migliore perché una morte prematura non è mai migliore, nella fattispecie quell'uomo mi sembra che fosse comunque molto anziano quindi aveva molto vissuto, ma nel modo meno doloroso e meno angoscioso possibile. Ecco questa è la differenza. In una disputa è sempre buona regola scontrarsi con i campioni dell'arte avversa, si legge sempre nel suo libro. Rispetto all'argomento fine vita lei si è confrontato con personalità di spicco per usare un eufemismo da Dionigi Tettamanzi a Joseph Ratzinger, di recente anche con Matteo Zuppi che è l'arcivescovo di Bologna. Volevo sapere complessivamente che impressione ha tratto da questi incontri. Guardi, con il cardinal Tettamanzi che è stato cardinale di Genova prima e cardinale arcivescovo di Genova prima e poi arcivescovo di Milano, dopo quindi uno dei porporati più importanti nel paese, io ho avuto una lunghissima discussione sulla bioetica perché Tettamanzi ha scritto il manuale di bioetica, uno dei due manuali di bioetica cattolici più importanti che vengono usati in tutto il mondo. L'altro è quello di Monsignor Sgrèccia, anche lui poi diventato da ultimo cardinale. Quando Tettamanzi pubblicò questo suo volume, che ha un'enorme influenza perché appunto nei seminari viene utilizzato, abbiamo registrato, sono andato a Genova, abbiamo registrato una lunghissima conversazione, l'abbiamo poi sbobbinata, lui ha rivisto la sua parte e l'ho pubblicata vent'anni fa circa, forse ormai anche 21 su Micromega. E a un certo punto, di fronte all'incalzare di mie domande e contestazioni sul fatto che su eminenza Tettamanzi continuava a svicolare rispetto alle domande, a un certo punto Tettamanzi ammette. In effetti un elemento decisivo contro il diritto all'eutanasia non c'è se non c'è la fede. Quindi è il riconoscimento che senza la fede argomenti davvero conclusivi contro il diritto dell'eutanasia non ci sono. Ovviamente questo da parte di un cattolico è un'ammissione devastante perché siccome noi viviamo in uno stato laico in cui la fede è una questione privata di ciascun cittadino ma sono uguali i credenti di qualsiasi religione e i non credenti di qualsiasi tipo e quindi la fede di una religione non può essere argomento per imporre una legge. La logica conseguenza di questa ammissione è che quindi la legge deve garantire a chi lo voglia l'eutanasia e il suicidio assistito. Poi i pastori della chiesa inviteranno le pecorelle del loro greggio a non utilizzarlo. Questa è la separazione tra chiesa e stato. Naturalmente nel corso della stessa conversazione poi Tettamanzi ha cercato di edulcorare, sminuire ma ha avuto il rigore e l'onestà intellettuale di non chiedermi di cancellare quelle affermazioni che aveva fatto perché le aveva fatte. Ora in tutte le successive discussioni che io ho avuto con alti esponenti della gerarchia cattolica ho iniziato le discussioni sempre con una domanda molto semplice. Eminenza sul suo fine vita preferisce decidere lei o che decida io? E non ho mai avuto una risposta precisa, erano subito risposte che aggiravano il problema, parlavano d'altro. Allora a questo punto io dicevo Eminenza io però vorrei una risposta evangelica, nel senso di Matteo 5,47 mi sembra. L'ho citato talmente tante volte che forse lo ricordo e quel versetto che dice il tuo dire sia sì sì no no perché il di più viene dal maligno. È Gesù che parla e che quindi dice che chi non dà risposte nette parla attraverso il diavolo. A questo punto queste persone, questi vescoli, questi cardinali non sapevano che rispondere e si mettevano a parlare d'altro. Ecco, questo per dire che non c'è un argomento razionale che davvero possa far dire no al fatto che se la mia vita io la vivo come tortura non possa porvi fine facendomi aiutare. Per questo io dico che in realtà la questione non dovrebbe neanche essere sottoposta al referendum, c'è l'unanimità sul fatto che nessuno vuole che sul suo fine vita decida un altro. E allora se il cardinale X giustamente non vuole che sul suo fine vita decida io, perché mai sul mio fine vita dovrebbe decidere lui? Siamo tutti d'accordo che nessuno decide sul fine vita di un altro è una condizione rarissima nella discussione pubblica, c'è l'unanimità su questo principio. Basterebbe questo principio che dice che sul proprio fine vita decide ciascuno liberamente trasformarlo in legge, anzi addirittura in articolo della Costituzione. Senta, ci avviamo alla conclusione con le ultime tre domande. Le racconto questo aneddoto. L'anno passato noi avremmo dovuto organizzare una mostra di importante curata da Ed Atkins che è uno degli artisti contemporanei più convincenti sotto diversi profili. In quell'occasione però Ed Atkins sarebbe stato curatore e non un artista che espone il suo lavoro organizzatore, diciamo così. Il progetto curatoriale prevedeva la fruizione di un film di Stambray Cage che è tra i padri del cinema sperimentale, in cui sostanzialmente si vede ripresa dal vero un'autopsia. Ecco, per proporre questo progetto abbiamo affrontato innumerevoli difficoltà nonostante il nome prestigioso dell'artista, l'importanza indiscussa del cineasta, nonostante il progetto fosse stato nella sua interezza con successo già presentato a Berlino. Qual è, le domande, secondo lei, la difficoltà nell'approcciare la carne reale, senza il filtro della rappresentazione o, come dicevamo prima, chiamiamola la devitalizzazione della ripetizione? Dipende dalle circostanze. Io non credo che di per sé mostrare cadaveri squartati sia una buona cosa di per sé. Io penso che, per esempio, far vedere la realtà dell'agonia di persone che vorrebbero il suicidio assistito possa essere una giustificatissima iniziativa, per far vedere appunto cosa c'è di reale dietro la pretesa di essere dalla parte della vita. Io, per esempio, di fronte all'obiezione, perché in questo libro io mi pongo le obiezioni più scomode, ovviamente, allora una delle obiezioni scomode è, ma così è per i neonati? Anche per i neonati ci può essere l'eutanasia e io riporto il racconto di quali sono i casi in cui in Olanda o in Belgio è possibile l'eutanasia neonatale e riporto una paginetta, credo, di qual era la condizione di uno di questi piccoli, di questi, credo, alcuni mesi, che ho fatto difficoltà a trascrivere, perché prende alla gola la sofferenza mostruosa di questo piccolo bambino, cioè mostruosa. Ecco, quando si sentono i cosiddetti difensori della vita, pretendere che invece queste sofferenze continuano, allora in quel caso io credo che farle vedere queste sofferenze possa essere una pedagogia necessaria. Dopodiché però quello di squadernare autopsie per un'operazione artistica, le ripeto, io cose di questo genere, lei mi dice quest'artista è molto noto, molto importante, io cose di questo genere non le considero arte, le considero altre cose, però ripeto, oggi parliamo del tema eutanasia, il discorso sull'arte sarebbe talmente più ampio che non lo possiamo affrontare oggi. Certo, ma appunto poi volevo prescindere dalle valutazioni del singolo, ma per utilizzare il pretesto che è stato utile per l'osservazione che lei ha fatto, ovvero che dalle volte approcciarsi alla realtà senza filtri sarebbe anche più efficace, soprattutto per determinate tematiche. In altri casi invece è un gratuito esibizionismo che va assolutamente evitato, dipende dalla circostanza, circostante. Certo, nel saggio davanti al dolore degli altri di Susan Sontag si trova questo passaggio, l'arte trasforma, ma le fotografie che documentano eventi disastrosi vengono criticate se appaiono estetiche, vale a dire troppo simili all'arte. Io ho fatto delle ricerche anche aiutate da alcune colleghe, ma non abbiamo individuato lavori di grandi artisti riconducibili all'eutanasia. Crede sia possibile che questa sia una tematica troppo forte per essere in qualche modo processata in forma artistica, eccettuato ovviamente il linguaggio del cinema di cui abbiamo parlato. E aggiungo una mia valutazione personale, secondo me anche il cinema quando è più efficace è perché traspone delle storie vere su pellicola. Guardi, non lo so. Una fotografia cogli un momento, spatico. Ora, nell'atto di eutanasia o di suicidio assistito una foto ritrarrà sempre una persona distesa su un letto con una flebo o se va in Svizzera mentre beve da una cannuccia. Cioè l'atto in sé non rende quello che c'è dietro, che invece in un film può avere perché il film racconta una sequenza e quindi perché in realtà è una sequenza quello che porta alla scelta dell'eutanasia. Quindi credo che il motivo sia questo. Però non lo so. Poi magari qualche fotografo invece ha scattato delle foto. Non lo so. Sì, infatti era interessante questa questione di quando diventa troppo estetizzante e quindi non rispecchia quello che sta succedendo. Ma concordo con quello che diceva lei che la narrazione cinematografica consente di descrivere meglio. Senta, io non sapevo come concludere perché mi sarebbe piaciuto farlo attraverso qualche artista contemporaneo ma come accennavo non ho trovato un lavoro che è utile per questa circostanza. L'unica cosa che ho trovato che mi piaceva farle vedere e commentare velocemente è un brevissimo lavoro di Cronenberg girato da sua figlia che mi sembra, almeno a me, è parso una buona conclusione perché in qualche modo l'ho letta come una riflessione sul fatto che la morte del proprio corpo fondamentalmente poi l'affronta chi la sta vivendo. Quindi glielo faccio vedere e poi lascio a lei la parola. Grazie. Le immagini naturalmente sono toccanti ed efficaci ma in realtà nessuno di noi può sperimentare la propria morte. Noi possiamo sperimentare la nostra agonia, la nostra sofferenza, l'attesa della morte. Ma come esperienza noi possiamo sperimentare solo la morte degli altri, la morte delle persone che ci sono a care. Noi possiamo sperimentare solo momenti della nostra vita. Da questo punto di vista, quando Epicuro diceva non bisogna avere paura della morte perché quando ci sei tu la morte non c'è, quando c'è la morte non ci sei tu, diceva una cosa sacrosanta, solo che dimenticava che l'angoscia non è per la morte, l'angoscia è per l'attesa della morte, il sapere, cioè l'angoscia è per tutto ciò che stai o immagini di perdere se morrai prima di poter fare tutte le cose che avresti voglia di fare. Quindi l'angoscia ha a che fare solo con momenti della vita. Ora, anche la vita più felice può essere rovinata da un fine vita di sofferenza. Anche per questo noi dovremmo avere, volere a tutti i costi, il riconoscimento che per ciascuno di noi c'è il diritto a concludere la propria vita come vuole, senza sofferenze. Perché anche la vita più felice può essere compensata in negativo da un fine vita di più infelice. Io ho sempre parlato, quando ho sottolineato chi sono oggi, soprattutto in Italia, i nemici del diritto di ciascuno alla propria vita e quindi anche al proprio fine vita, la Chiesa Cattolica. Ma ho sempre voluto sottolineare la gerarchia cattolica, perché in realtà anche nel mondo cattolico ci sono sia delle voci autorevolissime che hanno sostenuto il diritto di ciascuno all'eutanasia. Hans Küng è stato il più grande teologo da mezzo secolo a questa parte. Oppure Don Giovanni Franzoni, che è stato l'abbate di San Paolo fuori le mura e quindi il più giovane partecipante al concilio Vaticano II, il più giovane dei padri conciliari. Hanno tutte e due scritto dei libri, molti, non solo in difesa del diritto delle persone in quanto cittadini a scegliere, ma dei cristiani in quanto cristiani, con grande citazioni anche bibliche, evangeliche. E io credo poi che siano tantissimi i credenti, i credenti praticanti che su questo, come su altri aspetti della morale della Chiesa, la Chiesa non la seguono più. In tutte le faccende bioetiche che vanno dall'aborto al divorzio, non parliamo poi della sessualità prematrimoniale, postmatrimoniale, all'eutanasia, una parte cospicua e credo crescente di cattolici praticanti non segue la Chiesa. A me è capitato, concludo con un episodio che forse alleggerisce, nel 2000 ci fu il giubileo. La penultima giornata, mi sembra il giubileo, era Papa Voitiva di fronte ai giovani su una gigantesca spianata dove ora c'è l'Università di Tor Vergata, all'epoca era ancora una gigantesca spianata e la sera fece il suo discorso ai giovani, invitandoli a praticare tutte le virtù cristiane, compresa la castità, eccetera. Con un successo tra i giovani, non erano applausi, era una specie di, insomma, una gigantesca manifestazione di condivisione, affetto, entusiasmo per le parole del Pontefice. La mattina dopo, una trasmissione che era condotta da Del Noce, fumo invitati il cardinal Schemborn, che era il cardinale di Vienna all'epoca, ed io in quanto non credente. E era arrivata un'agenzia che io lessi al cardinale Schemborn per dire non scambiamo le manifestazioni di entusiasmo per Karol Voitiva come il fatto che la morale che lui predica abbia fatto breccia fra i giovani. Perché questa agenzia diceva che quegli stessi giovani che la sera avevano applaudito entusiasticamente le parole di Voitiva che li invitava alla castità, eccetera, la mattina dopo la nettezza urbana aveva raccolto non so quante quintali di preservativi. Ecco, questo per dire che in fatto di bioetica davvero solo le gerarchie cattoliche ormai sostengono certe posizioni, ma comunque le sostengono, hanno il potere dalla loro parte per ora, hanno la viltà di troppi politici che hanno paura di non seguire quello che vuole la Chiesa. Speriamo che con questo referendum succeda qualcosa di ancora più significativo e disvolta di quello che accadde tanti decenni fa con il referendum sul divorzio e poi sull'apporto. Grazie a tutti voi per avermi invitato e per questa conversazione. Dottor Darkaise, grazie a lei. Nel nostro piccolo abbiamo fatto qualcosa per riportare la conversazione nel sistema dell'arte anche su questi temi e parlo a nome di tutta l'associazione The Blank. È stato veramente un piacere, un onore averla qua con noi e auguri anche per la nuova vita di Micromega. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.